Gwendalina questa sera entrerà nella casa del grande fratello Vippa, ne vedremo delle belle con suo fratello ovviamente Buongiorno Flowers! Ragazzi allora oggi sono un po' in ansia, a breve scoprirete perché E niente, se avete qualche richiesta da farmi del tipo cosa vorreste dire a Tontonella o a Edoardo Scrivetemi pure in direct va? Sono pronta per andare sulla luna Sicuramente in questo modo la mia testa non rimarrà incinta No ragazzi non sono incinta, semplicemente volevo dirvi che stasera entrerò in casa Non ve lo vuole dire, non ve lo vuole dire Sto facendo una tinta che in gravidanza non si può fare Infatti basta Ci scherza Su su una presunta gravidanza, non ci crediamo perché si sta facendo la tinta Comunque questa sera vedremo Gwendalina al grande fratello Vippa Grazie a tutti